buongiorno amici bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee questa mattina volevo condividere con voi una cosa importante che sto facendo approfittando della bella giornata volevi trasvasare questi vasi di chingianum e di dendrobium e chingianum che voi vedete qui sono stati fino a oggi siamo a fine dicembre quasi sul vaso di plastica ho notato praticamente che il vaso di plastica quelle poche volte che io do l'acqua anche se questi osservano più o meno un periodo di riposo mi rimane bagnato e substrato ho fatto già un video substrato in questo caso la fibra di cocco mi rimane bagnato per troppi giorni non me lo posso permettere con questa pianta anche se vedete che questa pianta non ha problemi non ha sofferenza non ha nulla è solo un aggiornamento che faccio al mio modo di coltivazione affinché queste piante possano beneficiare del vaso di terracotta vi faccio vedere questo che ho già fatto come lavoro è una pianta più grande e molto semplice come lavoro lo faremo insieme questa è una pianta che a breve andrà a fioritura da qualche parte comincia a tirar fuori lo stelo floreale che viene proprio dal centro nasce il fiore proprio dal centro della pianta dall'interno dell'apertura delle foglie viene fuori il getto floreale il passaggio che faccio è semplicemente questo per dare alla pianta modo di asciugarsi perché praticamente questa pianta qui in estate che succede in estate il vaso di terracotta andrà bagnato molto più spesso però la pianta gestisce meglio questa tipologia di orchidea gestisce meglio il secco piuttosto che rimanere per giorni e giorni umido quindi siccome non mi piace per la tipologia di pianta questo concetto che poi un concetto che adotterò anche con gli altri dendrobium vi faccio vedere il lavoro che faccio allora è molto semplice perché io tiro fuori dal vaso di plastica dove sicuramente si saranno attaccate dei radici tiro fuori la pianta e notate un attimo i particolari guardate che radici guardate che pane di radici semplici ma belle sposto questo guardate allora la fibra di cocco è un substrato che se io adesso do una botta mi cade giù tutto non si combatterà mai ne rimane un poco sul fondo del vaso ma io non ho problema perché prendo il vaso di terracotta il vaso di terracotta è questo qui metto giù quella che era avanzata dal vaso metto giù la fibra di cocco metto giù la pianta e ho fatto il rimbaso è di una facilità proprio per via della tipologia di substrato di una facilità estrema non ho dato danno alle radici la combatto un po giusto per evitare che no la pianta possa muoversi perché abbiamo detto che la pianta non ama molto muoversi sono piante che crescono o in tronchi o in rocce queste quindi stanno belle saldate belle agganciate ai supporti ecco metto giù cerco di comprimere un po ma non abbiate paura quando comprimete il substrato la fibra di cocco perché se io la ritiro fuori e tolgo il petto sulle radici tanto questo mi cade dappertutto compenso se c'è un po di mancanza al lato del substrato e questa pianta è fatta è un veramente quasi come fosse più un gioco che un lavoro nel senso che è molto molto facile sta pianta è fatta adesso io sto perdendo semplicemente un po di tempo per adattarla meglio facciamo quest'altra quest'altra pianta che vedete qui questa è più piccolina lo stesso non è che stanno male nel vaso di plastica è solo il concetto che il vaso di plastica asciuga di meno e questa è venuta via molto ma molto facilmente guardate che succede che rimane tutto bagnato è la fibra di cocco vedete che sopra magari in superficie biondisce un po si asciuga sotto rimane rimane umida metto la stessa cosa metto quello che ha avanzato dal vaso tanto più o meno la misura è quella forse a occhio ne manca un piccolo pugnetto metto giù è fatto cerco di adattare un po la fibra di cocco che sta al lato per cercare di combaciare un po di più ne metto un pochino all'estremo giusto per completare un po il lavoro gioco è fatto vede è di una facilità estrema il rimbaso nella fibra di cocco quando ci sono quelle giornate come quest'inverno non è un inverno freddo quello che stiamo vivendo però è un inverno che che succede c'è tanta umidità delle mattine c'era tanta tanta nebbia il vaso di terracotta mi aiuta a far entrare e uscire far entrare e uscire tutta l'umidità sia quella che do io se fosse in eccesso esce sia l'umidità esterna ambientale che se io metto questo vaso su una finestra come questa che io sto tenendo a est alla mattina c'è nebbia c'è umidità cioè riesce a fare uno scambio tra l'umidità interna e l'umidità esterna la pianta ne beneficia quindi come abbiamo detto come tipologia di pianta il dendrobium non ama rimanere bagnato per giorni 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 no rispetto ad altre orchidee rispetto alla phalaenopsis la pianta ha bisogno anche di asciugare il vaso di terracotta mi permette di fare questo c'è una cosa molto importante che vi volevo dire che praticamente il vaso di terracotta voi avrete una perdita di radici è vero perché tutti quanti dicono non lo mettete nel vaso di terracotta perché il vaso di terracotta quando tu vai a toglierlo delle radici possono essere danneggiate però c'è una cosa molto ma molto importante nei vasi di terracotta questo è successo a me nella mia esperienza voi avrete il 100 per cento delle radici il 100 per cento delle radici sane se ne perdete un 10 per cento andate al 90 per cento delle radici sane nel composto della fibra di cocco quando io coltivavo in altri composti tipo il bark tipo l'apillo mi capitava di non avere il 100 per cento delle radici sane ma di averne un 75 un 70 c'era sempre qualche radice marcia con questa tipologia di vaso non avrete mai radici marce mai radici con questa tipologia di vaso e questa tipologia di substrato non avrete mai radici rovinate perché si creerà sempre un microclima all'interno di questo vaso in aggiunta con questa tipologia di substrato la cosa importante è proprio questa non ci saranno mai radici rovinate quindi quando lo andate a toglierle la paura di far danni alle radici si c'è qualche radice si attaccherà perché loro per natura sono piante dendrobium come dice dalla parola greca si attaccano agli alberi vivono in simbiosi con l'albero cioè simbiosi nel senso solo per agganciarsi non perché prendono sostanze dall'albero assolutamente una simbiosi di di legame diffusione tra la pianta e l'orchidea per tenersi saldamente agganciata quindi questo scambio che c'è non c'è uno scambio tra la pianta cioè non è una parassita è un'epifida rimane saldamente agganciata il vaso di terracotta gli permette di agganciarsi su un substrato agganciarsi sul vaso di terracotta perderemo qualche radice ma la quantità di radici saranno tali e tante che non avrete mai il problema di far danni guardate sposto questa tiro fuori questa pianta grande che ho fatto vi faccio vedere la situazione guardate per tirarlo fatta poco fa guardate che pane radicale che abbiamo lo stesso come vi dicevo se io adesso mi metto a toccare le radici se do un colpo cade su tutto anche senza dare il colpo viene su tutto guardate che radici guardate mai avute con un dendrobium è una tipologia di radici del genere sono bellissime adesso io la riada questo ve l'ho fatto vedere giusto per vedere che pane radicale che abbiamo è fantastico eh cerco di muoverlo poco perché sennò butto giù tutto esatto questo rimettiamo giù che forse andava bene come stava eccola qua il rinvaso della pianta è velocissimo velocissimo adesso l'ho messa dentro pochi minuti fa l'ho tirata fuori per farvi vedere a voi com'è la situazione delle radici che succede che poi quando daremo l'acqua si adacerà un pochino di più prenderà il substrato la fibra di cocco si adacerà un pochino forse ci sarà bisogno di ridarne un po come se fosse un terriccio ma non è terriccio avete visto la facilità proprio di lavorazione di questo materiale che per me è fondamentale quindi preferisco in abbiamo fatte ecco questa l'abbiamo svasata queste quelle che abbiamo fatto insieme di piante che tra poco fioriranno preferisco farle soffrire un po in estate dico la verità farle soffrire un po in estate perché dovrò bagnarle di più queste in estate andranno bagnate quasi tutti i giorni perché il vaso di terracotta rispetto al vaso di plastica dura molto meno quindi se qui voi bagnate sul vaso di plastica ogni tre giorni e nel vaso di terracotta è una volta al giorno se voi nel vaso di plastica bagnate una volta a settimana nel vaso di terracotta bagnerete ogni tre giorni ha una versatilità pazzesca e tante volte uno dice no non li mettete sul vaso di terracotta perché poi il vaso di terracotta ha dei pro e contro ogni cosa ha dei pro e contro in questo caso per me nella coltivazione del dendrobium che stanno fuori tutto l'anno il dendrobium è una pianta che va dai più 40 gradi fino a zero ha una versatilità il dendrobium kingianum questa pianta australiana una versatilità di coltivazione pazzesca però ho visto nella coltivazione senza essere arrivato al punto di far danni l'ho visto coi miei occhi che se riesco a farla stare più asciutta piuttosto che umida gradisce un pelo di più quindi il lavoro mio quale sarà quello di avere bisogno di dare più acqua durante la coltivazione questa è una cosa che ho condiviso con voi era un po di giorni che volevo fare siccome adesso l'inverno ci regala delle temperature midi fuori siamo a 12 gradi in casa siamo a 17 le riporto subito fuori in modo tale che possono riabituarsi al clima queste diciamo che stanno fuori da un anno da un anno e mezzo due quindi sono benissimo acclimatate oggi è una buona giornata grazie di avermi seguito spero di avervi fatto vedere questo che è un mio continuo aggiornamento nel modo di coltivare orchidee affinché possano stare bene la cosa che avete visto importante sono le radici le radici stanno perfette il vaso quando bagnerò questa è una cosa importante che ho detto negli altri video quando bagnerò l'acqua dovrà uscire sotto perché quello sarà il segnale quando l'acqua uscirà sotto che ho bagnato tutto quanto il substrato se l'acqua non esce rischierò che sopra sarà bagnato e sotto asciutto quindi molto importante quando date l'acqua datene di più perché l'acqua dovete vedere che si ha bagnato tutto il composto quindi deve uscire se esce acqua sotto va benissimo in questo caso perché significherà che abbiamo bagnato ben bene tutto il substrato poi l'eccesso d'acqua lo gestisce il vaso di terracotta avete presente quando sui vasi delle falenopsis se vedete tutte le goccioline ai lati quelle goccioline di umidità si creano perché c'è un'umidità abbastanza elevata sul vaso di plastica sul vaso di terracotta quelle goccioline non ci saranno mai perché si creerà un microclima essenziale per la pianta un microclima in cui la pianta avrà uno scambio tra l'interno e l'esterno in modo tale che si adatterà tantissimo all'umidità dell'ambiente circostante e è una salvaguardia per l'umidità interna una cosa importante che poi me ne vengono tante cose da dire ma non voglio allungarmi in estate il vaso di terracotta se voi misurate con un termometro è molto più fresco quindi tante volte si vedono nei video che vengono messe orchidee nei vasi neri il vaso nero quando fuori è 40 gradi non lo so a che temperatura arrivano le radici quindi stiamo attenti a questo il vaso nero sotto i raggi del sole ho fatto la prova io le radici scottano letteralmente si possono cuocere quindi con il vaso di terracotta riusciamo a gestire oltre che l'umidità la temperatura queste sono cose che non finirò mai di dire ci passerò tutti gli altri dendrobium in terracotta grazie di avermi seguito al prossimo video a presto